Ciao a tutti e a tutte, benvenuti in questo nuovo video Oggi faccio il vlog, cioè stasera perchè sto andando allo stadio di Brescia con mio papà e mio fratello infatti ora partiamo e andiamo quindi ora faccio vlog non abbiamo cenato, infatti andiamo allo stadio quando finisce la partita andiamo al McDonald's sarà tipo non so che ora però si ora sto aspettando mio fratello perchè ancora solo si sta sistemando e niente, filmerò quando siamo arrivati poi vi filmerò dei secondi, pochi secondi quando inizierà la partita e ecco, dopo alla fine vi dirò tutto allora, ora io aspetto quando saremo partiti vengo di nuovo e niente spero che questo vlog vi piaccia e niente, noi ci vediamo a un prossimo video cioè sto già facendo la parte finale ma ok ciao, a dopo eccoci qua di nuovo, siamo qui con mio fratello ciao ci siamo fermati perchè mio papà doveva fare la benzina e queste sono le bandiere le bandiere, le sciarpe per Brescia e... ok e ora ripartiamo in primo... se... uuuuuh l'ho fatta apposta uuuuuh allora siamo appena arrivati a Brescia infatti abbiamo già la sciarpa e il mio fratello ce la fa al fianco eccoci, c'è casino perchè stanno tutti che fanno il Brescia e niente ora stiamo camminando e stiamo andando allo stadio e... vi filmo quando siamo entrati e quando sta per inizio la partita questo è lo stadio, siamo appena arrivati e... c'è... non l'ha più evidente anche qua noi siamo qua, siamo qua all'angolo ma... niente il Brescia è quello là si, guarda che lo copriano un po' che lo copriano è il c modo un po' che lo so 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 E' finito il primo tempo, siamo già ben 2 a 0 e ora aspettiamo che inizi il secondo tempo e forza Brescia. Allora sono appena usciti dal stadio, abbiamo vinto 2 a 1 per noi e ora andiamo al McDonald's a mangiare. E niente abbiamo vinto 6, forza Brescia di non vincere, niente, ciao. Alla fine mi sono contagiata, mi sono sempre tutti qua la piadineria e sono spettato. Sono tutte le due di me. Sono arrivate le piadine e ora mangiamo, di ciao. Sono appena arrivata a casa, ora finisco il vlog perché vado a dormire, perché è tardi. Quindi niente, il vlog finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto, se volete lasciate un bel like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacione. Ciao, ciao. Ciao.